Noi guardiamo avanti. L'associazione dei tour operator incoming inside Marche Live e il comitato delle proloco della provincia di Pesaro Urbino hanno firmato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa per il progetto di organizzazione eventi, marketing, promozione e promo commercializzazione turistica ovvero lavorare insieme nel programmare e promuovere iniziative di qualsiasi genere da svolgere nel territorio provinciale e marchigiano. La firma è avvenuta all'interno della sala della provincia dal presidente di Inside Marche Live Federico Scaramucci e il presidente delle proloco di Pesaro Urbino Damiano Bartocetti. Le proloco da tanti anni organizzano e sono impegnate nella valorizzazione del territorio e noi da sempre siamo impegnati nella vendita di quelle che sono le opportunità di queste terre. Mettersi insieme significa anche cercare di fare sinergia, di mettere insieme le forze, di non disperdere risorse, quindi per noi è molto importante cercare di lavorare appunto di squadra quanto mai oggi c'è necessità di avere meno individualismo, meno personalismo e soprattutto più lavoro di squadra. Quindi per questo che abbiamo deciso di fare questo tipo di intesa che naturalmente si inizierà già a vedere e a realizzare fin dai prossimi appuntamenti a partire dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dove già appunto saremo insieme per programmare iniziative, promuovere il territorio, promuovere gli eventi, organizzare anche un evento fuori fiera dove inviteremo tour operator, giornalisti, italiani e stranieri e presentare il sistema Marche, il sistema del territorio della provincia di Pesaro Urbino in maniera unitaria e coesa. Poi soprattutto anche adesso che abbiamo questa grande occasione di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, quindi non possiamo assolutamente perdere, dobbiamo assolutamente cercare di mettere insieme le forze per cercare di lavorare meglio e far conoscere ancora di più questa meravigliosa terra. Vorrei ricordare che le Proloquo nel nostro territorio organizzano il 90% degli eventi. questi eventi che spesso vengono poco pubblicizzati, poco portati fuori e credo che la sinergia con i tour operator debba essere proprio questa, noi creare gli eventi e il tour operator che lo fa per mestiere promuovere e vendere i pacchetti in aiuto del territorio. Questi aiuti che sono fondamentali per il nostro territorio e che ci rendono sempre di più accoglienti e capaci di rendere belle e vive le nostre comunità. All'Abit a Milano saremo come Proloquo soprattutto a promuovere quella che è la nostra forza, le nostre Proloquo ma soprattutto i nostri eventi, in particolare il Natale che non ti aspetti che destagionalizza un periodo di bassa stagione e che soprattutto vede la commissione, la collaborazione di più enti, soprattutto in particolar modo la Regione Marche ma anche con Inside Marche e con tutte le altre associazioni che vorranno aderire alle nostre iniziative perché crediamo e riteniamo opportuno che lavorare insieme e promuovere insieme gli eventi sia veramente vincente. Grazie. Grazie.